guarda wow com'è grande anche lo schienale è rigido e le cinghe imbottite un altro zaino con la tasca termica che si attacca anche alla bici ecco stanno aprendo gli zaini più belli sono un regalo di Dixam 2000 maxi zaino col fustone bici zaino col fustino due nuovi regali solo con Dixam 2000